Venerdì 18 e sabato 19 luglio il campo dell'oratorio Don Bosco in via Taranto ha ospitato il secondo torneo amatoriale adulti e mini scarabocchio. Una manifestazione sportiva di calcio a sette organizzata dalla CIA di Castellaneta ed in collaborazione con l'associazione culturale Gaia. Manifestazione che rientra nella settima edizione di estate insieme con la pizzica. Le squadre partecipanti sono state 4 squadre di bambini che l'età comprendeva dei 6 ai 9 anni, 2 di Mottola e 2 di Castellaneta, di cui la squadra vincente è la squadra che fa parte all'oratorio di San Domenico di Castellaneta, mentre il torneo degli adulti comprendeva le due sezioni CIA di Ginosa e Palagianello, Castellaneta e in più una squadra proveniente da Mottola. La premiazione verrà fatta la sera del 9 agosto durante la manifestazione estate insieme con la pizzica alle ore 21. La manifestazione è stata insieme con la pizze comprende varie iniziative, tra cui Masseria sotto le stelle che verrà svolta il giorno 26 luglio. Il 7 agosto invece, sempre in piazza Umberto I, la serata sarà allietiata da una sfilata di moda organizzata dallo stilista Michele Gaudiomonte. L'8 agosto, sempre in piazza Umberto I, ci sarà il concerto dei Terra Rosso.